Da 40 anni ci occupiamo del cuore di tutti, lo facciamo curando i pazienti ma anche facendo ricerca. La ricerca del Monzino io ritengo sia unica perché viene applicata al malato sia in laboratorio sia al letto del paziente. Io penso che il Monzino abbia dimostrato che questo modello sia un modello vincente. Lo abbiamo fatto a livello clinico come centro di riferimento in Lombardia per le urgenze e le emergenze cardiovascolari e lo abbiamo fatto a livello di ricerca delineando le linee guida del rapporto tra Covid e cuore e definendo i meccanismi con cui gli eventi trombotici così tanto temuti si possono verificare durante l'infezione. Tutto ciò è quello che è stato fatto nel presente ma la ricerca non si ferma perché senza ricerca non c'è futuro.